Qui siamo vicino al primo seggio scrutinato dove abbiamo ottenuto il 72% come squadra. Certo eravamo ottimisti ma tesi, un risultato così però non ce l'aspettavamo almeno in questi termini. Tengo proprio a ribadirlo che è una vittoria di squadra, di un progetto che affonda nel passato le sue origini e vuole guardare agli anni futuri. Il nostro impegno vero è quello che tra cinque anni potremmo dire che la burina è ancora un po' più bella di quella che ereditiamo un po' da noi stessi perché ci troviamo anche noi. Qualche squalerata sulla giunta? No basta così, fine così.